Ciao a tutti, oggi vedremo come utilizzare Smart Exchange che è il sito dove potrete condividere e trovare lezioni già pronte per il vostro Smart Notebook. Posso raggiungerlo in due modi dalla barra laterale e trovo Smart Exchange, posso cliccando sul link andare al sito oppure aprire i link rapidi ma anche senza avere Smart Notebook aperto posso su un qualsiasi motore di ricerca digitare Smart Exchange lo trovate all'indirizzo exchange.smarttech.com utilizzarlo è molto semplice non devo obbligatoriamente né accedere né iscrivermi ma posso cercare liberamente le risorse posso fare una ricerca per parole chiave oppure cercare per materia per grado di scuola dalla prima elementare fino alla quinta superiore oppure per tipo di file e quindi potrò cercare lezioni già fatte in Smart Notebook modelli o aree di lavoro in Smart AMP attività del nuovissimo Lab e lezioni in modalità doppio utente nonché contenuti in 3D applicazioni per la Smart Table domande già fatte per Smart Response posso anche lasciarmi guidare dai menu veloci queste sono le risorse condivise più di recente in principali download trovo le lezioni di successo e addirittura le risorse consigliate dagli altri insegnanti ad esempio a me interessa molto l'isola di Numerana clicco sulla risorsa ci sono diverse informazioni il numero di download quante volte è stato scaricato chi ha consigliato questa risorsa una descrizione della risorsa il tipo di file la materia l'anno per cui è consigliata e la data di caricamento posso consultare la risorsa in 3 modi vedete ci sono 26 pagine e posso sfogliare cliccando sui triangolini questo è un modo molto semplice per dare un'occhiata a grandi linee ai contenuti della risorsa ma per capire meglio come è fatta soprattutto perché potrebbero esserci dei giochi in flash che non sono visualizzabili dall'anteprima posso aprire la mia risorsa in Smart Notebook Express basta cliccare su questo tasto non dovete cliccare su questa pagina ma solo attendere e subito si aprirà la mia risorsa Smart Notebook Express non è nient'altro che uno Smart Notebook quindi un programma per la LIM utilizzabile gratuitamente online ecco allora che posso consultare la mia risorsa e soprattutto interagire con essa ad esempio qui c'è clicca 1 se clicco c'è una narrazione ora il volume è basso e forse non lo sentite come vi dicevo ad esempio a pagina 13 c'è la F di flash quindi c'è un gioco in flash posso consultarlo solo in Smart Notebook Express ecco che una volta che la risorsa è caricata scopro che è un gioco di memory dove posso trovare le figure identiche se la risorsa mi piace posso cliccando su scarica scaricarla definitivamente sul mio computer caricarla sulla chiavetta e utilizzarla su qualsiasi LIM per tornare alla pagina principale basta cliccare sulla casetta in alto a sinistra vediamo come fare una ricerca un po' più complessa ad esempio vorrei trovare una risorsa di geografia sul ciclo dell'acqua scrivo ciclo acqua ed ecco che compaiono tutta una serie di risultati posso visualizzarli per corrispondenza migliore i più recenti e soprattutto i più scaricati e i più consigliati che sono sempre i migliori i più scaricati e i più consigliati di questa settimana oppure di questo mese oppure di sempre posso ancora perfezionare la mia ricerca quindi posso cercare risorse sul ciclo dell'acqua ad esempio per la scuola secondaria di primo grado quindi per la scuola media e allora clicco sulle spunte scuola secondaria 1 scuola secondaria 2 scuola secondaria 3 clicco su vai e la mia ricerca viene perfezionata ad esempio questa lezione di scienze è per la prima e la seconda media e l'autore è un insegnante di nome Ruzza un'ultima cosa posso accedendo ho già le password prememorizzate cliccando su condividi una risorsa posso condividere una risorsa quindi condividere una lezione che ho creato basta caricare il file che si trova sul mio computer dare un titolo e una descrizione indicare per quale materie e per quale anno scolastico è indicata ed eventualmente aggiungere delle etichette ulteriori devo infine dare il consenso a Smart all'utilizzo della mia risorsa se clicco su risorse personali invece ci sono tutte le risorse che ho caricato io ho caricato moltissimi giochi soprattutto creati con Smart Lab per oggi è tutto arrivederci grazie a tutti